Amici cari The Final Shape sta arrivando ma Xur immanchabile prima che eventualmente chissà Riceverà dei cambiamenti? Sponerà da altre parti? Non lo so, per il momento Xur è in torre Comunque, solito posto all'hangar Dove lo trovate? Affacciato da anni ormai Però, 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 come sempre In descrizione vi ricordo che ci sono due link molto importanti Il primo Instant Gaming Sconti, Ghost of Tsushima, Manor Lords, carte per la Playstation DLC di Destiny Prezzo scontato In più c'è il giveaway, mancano 7 giorni Regà, se volete cercare di vincere un gioco DLC di Destiny Le carte regalo, quello che vi pare 7 giorni e potete partecipare cliccando solo qua Tutto non censito Questa settimana Xur ci regala Il fantastico lente di Prometeo Che ormai è un grande classico L'abbiamo imparato a conoscere Negli anni È una di quelle armi che occupa ormai tantissimo spazio nel nostro deposito A parte quella brevissima parentesi in Trials anni fa e dopo che ho ricevuto il rework del Solare 3.0 Con la bruciatura Eccetera eccetera Bla 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 Insomma sapete già come funziona È un'arma di quelle che Fa il suo Ma ce ne sono altre che lo fanno meglio Soprattutto primarie Visto che questa è un'energetica La promessa di Shinobu Migliora la granata nefasta E guadagna una granata nefasta in più La granata nefasta si riempie la sua carica quando danno i geni nemici Quindi è tutto incentrato sulla granata E la nefasta non è che sia così utilizzata Fa anche un danno un po' Ma il role è anche discreto 15-12-21 su disciplina Quindi in teoria è anche un role che si incastra bene Il guerriero eterno Invece è una di quelle Che abbiamo visto Nell'articolo che Banji ha presentato Riguardante i rework che faranno sulle esotiche Che potrebbe avere una Un piccolo spazio Secondo me I colpi di grazia d'arco garantiscono un bonus crescente ai danni delle armi d'arco Otteni una protezione aggiuntiva quando attivi i puni della distruzione Ottieni i bonus ai danni di livello più elevato per le armi d'arco Quando puni della distruzione termina Questa roba qui verrà cambiata E si attiverà con le abilità ad arco E non più con la super ad arco Quindi raggiungere il per 4 per le armi Sarà più semplice E potrebbe essere un bel boost Quindi tenete la mente che magari il role fa schifo però Però se non ce l'avete intanto mettetelo da parte Il tesco del terribile ancare invece rimarrà uguale Il role è discreto Discreto E le uccisioni con bom manova forniscono energia della super Massimo fino al 50% Come sapete perché tutte queste Esotiche qua arrivano fino al 50% Della super C'è il falco lunare con occhio del ciclone Quindi tutti i pv pari possono essere contenti Con impugnatura di polimeri Caricatori lega E occhio del ciclone Sapete meglio di me Che questo è il role Da cercare se cercate un'arma da duello Se vi piace duellare In crogiolo Ah vedo delle robe interessanti qui A parte questo Che può rimanere lì C'è il mini strumento kalos con implacabile occhio del ciclone Il role fa schifo ma come sapete Queste armi qui si possono prenderne 5x5 E se avete da parte La resonance rossa potete trasformarle in craftabili E poi craftarvela come vi pare Questa così come di kalos Con questo role è orribile Ma potete fare lo stesso lavoro La variabile stocastica con sotto pressione estorgente Non ci piace Sussurro di Nezarek con Genesi Recupero non ci piace L'interdizione mnemonica Tanto meno E l'evasione riadattata Recupero con grilletto facile È orribile ma vale lo stesso discorso L'evasione riadattata è quel Mitraglione Da vuoto che spara 900 Che può rollare con target lock E quarta fortunata Che sappiamo essere un ottimo role Decisamente ottimo role Se volete potete craftarvela da questo Poi armature Sono con la strega come sempre Sembrano non essere bugate Ci sono delle braccia con 20 di disciplina Il petto con 26 di intelletto Il casco orribile Le gambe tanto meno Quindi vediamo brevemente anche gli altri pg Con il cacciatore Non me lo fa vedere Quindi facciamo un refresh magari se è bugato Vediamo un attimino Scusate Non me lo fa vedere Perfetto Dal dimme non me lo fa vedere Ergo dobbiamo atterrare Siamo atterrati con il titano Ragazzi Quindi Riprendiamo da dove avevamo lasciato Braccia con forza 25 Recupero 19 Discrete Il petto no Il casco con 30 di recupero 16 di forza 12 di disciplina È un buon Casco 68 Se avete i pezzi dove Recuperate la resilienza alta Questa è una buona base per una tripla 100 Perché no Mentre le gambe invece non ci piacciono Siamo riatterrati Cacciatore ragazzi Ci sono delle braccia Eh Guarda qua Pure queste A parte l'intelletto 14 No non è vero Pensavo fosse disciplina Lasciate stare Le braccia lasciatele dove sono Il petto no Il casco Buono Casco buono Mi sa che me lo prendo pure 20 29 con un totale di 66 Con 6 di mobilità Questo è buono Da mettere da parte E le gambe no Quindi un po' di robetta c'è In questo Xur Un po' di robetta c'è